Ecco, Vice Sindaco, questa è una vicenda ovviamente molto triste sotto un profilo umano, ma da un punto di vista meramente legislativo, come potrebbe finire questa storia? Ma potrebbe finire che o qualcuno della famiglia, o il Tribunale forse più facilmente, o altre istituzioni deputate a dare indicazioni all'amministrazione, il funerale se ne fa carico giustamente l'amministrazione. Quello che però non è possibile per un ente terzo, in questo caso il Comune, questo o un altro, decidere quando farà le esecue di una persona che non ha rapporti né giuridici né familiari con chi è deceduto. Quindi non mi è capitato molte volte per la verità in questi nove anni, però un paio di volte sì, solitamente è necessario che arrivi una indicazione per cui si dà mandato all'amministrazione, se vuole, di procedere. L'amministrazione vuole, ma aspetto il mandato. Dicevamo una vicenda molto triste sotto un profilo veramente umano, una signora che muore in casa di quell'età, poi morta da mesi. L'amministrazione comunale sotto il profilo della popolazione anziana però fa tante iniziative per sostenere la terza età e tutto quello che gli può girare intorno. Sì, insomma, nei servizi sociali del Comune di Arezzo ci sono oltre 9.000 persone che sono seguite, quindi è il 10% della popolazione, una parte molto consistente. Sono anziani, non dimentichiamoci che ogni cittadino ha il proprio medico di famiglia, quindi è un sistema sanitario fortunatamente universalistico che sta intorno a ognuno di noi indipendentemente dall'età e dalle condizioni economiche. Ci mancherebbe. È chiaro che a volte ci sono situazioni limite. Questa è una situazione limite che nasce in un contesto assolutamente ordinario ma totalmente straordinario rispetto alle evidenze che ha preso. Considerando anche il tempo in cui questo corpo è rimasto a casa, il suo e quello del gattino, quindi è evidente insomma che c'è un contesto straordinariamente particolare che può capitare e che comunque interroga ognuno di noi ma che fa parte di quelle cose che si iscrivono nei fatti assolutamente fuori dal comune.